Cracco, certo che l'ho dimenticato uno. Cracco, sì giusto. Cracco, Carlo. Senta, come si inserisce nella strategia di comunicazione di Lavazza questo progetto? Il nostro calendario per anni è stato uno strumento di comunicazione che ha portato la nostra immagine a crescere e rafforzarsi nel mondo delle campagne internazionali. Ogni anno sceglievamo due soggetti e lo utilizzavamo proprio per vincolare i nostri valori nel contesto internazionale. Quest'anno invece ha un livello diverso perché non lo utilizzeremo per la campagna stampa ma è un po' come la nostra flagship, quindi la nostra bandiera. Ormai l'alta gastronomia, la ricerca, l'esperimentazione è il nostro posizionamento quindi una nuova grande e forte identità di Lavazza. Nuova per modo di dire, nuovo è il progetto ma noi davvero è anni che lavoriamo con loro e collaboriamo con i grandi chef. Per l'esattezza è 15 anni a partire dal 98 quando abbiamo incontrato appunto Ferran Adria e da allora questo connubio di intenti, di ricerca e di passione condivisa per il caffè continua ad andare avanti. Come va la Lavazza? Qualche dato sul vostro mercato? Allora sicuramente l'Italia è un mercato difficile, è un mercato che è in calo perché logicamente i consumi sono in retrazione. In Europa invece nel mondo c'è una maggiore uforia, c'è un maggiore interesse e quindi questo bilancia molto la nostra situazione. Ovviamente siamo radicati in Italia ma guardiamo con sempre più attenzione all'estero. La comunicazione pesa e conta sulle vostre strategie? La comunicazione sicuramente non solo pesa ma è proprio un po' un faro. Quello che dà la direzione è le linee guida per spostare e posizionare i nostri prodotti. Quali sono il mix di planning, di comunicazione? La nostra comunicazione adesso ha una natura molto eterogenea. Cerchiamo di allargare il nostro media mix in modo da toccare tutti i diversi panorami ma ovviamente per avere anche la possibilità di parlare a un pubblico diverso. Quindi dalla campagna tv alla stampa alle affissioni e sicuramente grande attenzione anche al digital e al mondo del web che ovviamente sta diventando una parte integrante di tutte le nostre vite. Perfetto, grazie.